Musica Carissimi devoti alla Madonna della Neve che mi ascoltate in questo momento, in tante parti del mondo. Questa sera abbiamo fatto la discesa del quadro della Madonna. La Madonna della Neve è amata in tutto il mondo e soprattutto da voi devoti. Mi sono emozionato per dei problemi in famiglia e chiedo altre grazie perché dinanzi al nostro Signore Gesù Cristo siamo tutti uguali. Nostro Signore quando sei in buona fede concede grazie a tutti quanti. Mamma la neve mia è come si bella, è leva che sta bella, ho la coppatella. Mamma la neve mia è come si bella, mamma la neve mia è come si bella, e dimmi che c'è qua, da sta cappella. Come parroco rettore della Basilica rivolgo un pensiero affettuoso a ciascuno di voi e che la Madonna della Neve possa benedire voi che mi ascoltate e che mi vedete, le vostre famiglie e soprattutto benedire le persone anziane e gli ammalati. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.